Basta Equitalia Day, parte la campagna di Fratelli d'Italia in diverse città del nostro paese per chiedere attraverso una raccolta di firme l'abolizione di Equitalia. Armando Foschi, anche a Pescara questa mattina c'è questo sit-in con questa raccolta di firme? Sì, un sit-in che ha già riscosso l'usigniero successo di cittadini che si sono fermati a firmare la nostra petizione, petizione che verrà inviata alla Camera dei Deputati e tramite i nostri onorevoli verrà proposta come legge. Chiediamo l'abolizione di Equitalia, una società pubblica che lo spaventa di tutti gli italiani, vesta gli italiani e ci sono stati anche casi drammatici di persone che purtroppo hanno messo fine alla loro vita per colpa delle vestazioni da parte di Equitalia. Il motto della manifestazione è se hai pagato una sola cartella o una sola rata a Equitalia vieni a chiedere giustizia per tutti quei soldi che hai dovuto togliere dalle tasche per saldare interessi, agio, spese di notifica e maggiorazioni su maggiorazioni. La nostra proposta di legge è abolire Equitalia e passare alle regioni la riscossione dei crediti senza agio e senza interessi.